ciao pistino? oggi che giorno è? 10 agosto 22 si dai così vedo come vanno dove va? ma non c'era un salto una volta non c'era un salto una volta vado occhio occhio è qua si è un po rovinato sotto non c'era un po' ma non c'era un po' non c'era un po' non c'era un po' ma io forse di qua è più pulito non c'era un po' 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 vai marco stami dietro non c'era un po' 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 non c'era non c'era non c'era vai vai lasciala correre qua Buona Passaggio tecnico Marco è andato Passaggio 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 Oh